Ricordiamolo ancora una volta con l'espressione serena di chi ha preso in cento episodi a guardare in faccia la morte. Già sul limitare della vecchiaia, amava collaudare le auto che poi avrebbe affidato ai nuovi campioni. Anche in questo compito si avvertiva nitido il suo stile inconfondibile. Tazzi un volare, un uomo che per le giovani generazioni ha già il sapore del mito.